Allora, Donato Carrisi, qual è la sua location nel cuore del Lazio? San Luigi dei Francesi. Come va? Perché c'è un quadro del Caravaggio, il martirio di San Matteo, che è una perfetta scena del crimine, ma anche una perfetta scena cinematografica. Ecco, c'è una location nella location, un quadro in una chiesa.